Sì, diciamo purtroppo che un'altra sconfitta 3 su 3 non bisogna abituarsi a perdere. Diciamo che dobbiamo iniziare, come ha detto prima il mister, a metterci più cattiveria, più determinazione e iniziare a fare punti. Dopo la gara con lo Spezia tante critiche sono piacute su di te per i gol sbagliati, però non tutti forse ricordano che tu stai giocando fuori posizione e oggi comunque ti sei fatto trovare lì nell'occasione della spinta della difesa del Regino. Fuori posizione no, perché alla fin fine sono una mezzala, a volte ti può andare bene, altre volte ti può andare meno bene. E' quello che conta il risultato della squadra, poi il gol mio, il non gol mio, quello che conta è portare a casa il risultato che non ci stiamo riuscendo per adesso. La prossima partita con il Siena, un altro test importante, lo sappiamo all'inizio della stagione. Come vi approcciate? Qual è l'umore nello spogliatore dopo questo sconfitto e lo gambolisco contro la Regine? Purtroppo capisci che ora come ora, subito dopo la partita, siamo delusi. Magari da martedì, da lunedì, ripartiremo con entusiasmo e affronteremo sicuramente al meglio la partita con il Siena. Anche poi alla fin fine con lo Spezia avevamo fatto una buona gara e non abbiamo portato a casa il risultato. Oggi a tratti abbiamo fatto bene, se sul tiro di Di Carmen che avevamo fatto una bella azione andiamo sul 2-0, la partita cambia. Poi abbiamo preso tre gol in 10-15 minuti, capisci che c'è qualcosa che se hai la voglia di vincere una partita non puoi prendere tre gol in 15 minuti. Sergio, per quanto riguarda l'atteggiamento di Diop che è stato duramente attaccato anche dal mister, tu che magari lo conosci perché entrambi venite dal Torino, che cosa ci puoi dire? È un ragazzo un po' particolare, però avrà i suoi difetti, però chiaramente forse era la voglia di giocare quella che lo ha fregato in quell'occasione. Io non ho visto l'episodio, ovviamente se ha fatto una cosa che ha detto il mister mi dispiace, ma io conosco il ragazzo, magari sarà stato deluso per il cambio, perché sicuramente vorrà giocare, non lo so, io non l'ho visto, se l'ha fatto mi dispiace, spero che non lo faccia più, non so che dirti.